Vittoria per il Rione Terra che spugna il campo della Sessana con il risultato di 1-2. Dopo un buon inizio di gara passa in vantaggio il club Flegreo in chiusura di tempo con Mari al 45esimo. Nella ripresa la Sessana carica a testa bassa spinta da una grande cornice di pubblico e riesce a trovare il pari al 61esimo con il neo entrato di Palma. Sembra quindi essere appareccato il tavolo affinché la Sessana possa puntare alla vittoria. In questo caso però il vigore dei padroni di casa viene interrotto dal calcio di rigore per gli ospiti fischiato una decina di minuti dopo per un Mani in area di rigore. Dal fischio della battuta passano più di 5 minuti con Cirino in attesa del dischetto per le proteste inferocite dei padroni di casa al 71esimo però fa 2-1 per la squadra allenata da Mr Canet. Il club Flegreo poi resiste all'assalto alla ricerca del pareggio e andrà a giocarsi la finale play-off del Giro Nea contro il Neapolis. Il sogno chiamato eccellenza si avvicina e il rione terra sembra essere arrivato in questo caso carichissimo affinché possa battere anche il Neapolis e sperare poi nella fase completamente regionale di poter appuntare al salto di categoria.